Dopo lì dai Ravagni c'era un altro distaccamento a Pianlazzo, c'era un seccatoio, c'era una squadra ma era un po' misero. Allora il comandante ha detto, Leoncino prepara una squadra che dovete andare lassù, sono pochi, siamo andati lì a Pianlazzo e un giorno, ed è stato caldo, eravamo lì quasi a dorso nudo, giocavamo, noi perché a 18 anni, partigiano. E' un bel giorno è arrivato un partigiano che era il comandante di distaccamento, Lupo si chiamava, della GL, e suo fratello Lorenzo, e mi hanno detto, si sono rivolto al nostro comandante, il comandante Reggi Buti, di nome di Battaglia, Sono rivolto a lui e ci hanno detto, guarda che qui a Prassotano, che siamo quasi vicino, cerca un'ora di strada nemmeno, si è installata una squadra di repubblichini, Sa che venivano dalla Germania, i primi repubblichini si sono installati lì, in un palazzo vecchio a Prassotano, e ho detto, bisogna andare un po' a vedere, cercare di fare qualcosa, di attaccarli, no? Allora, Gibuto mi fa, Leoncino, preparo una squadra che andiamo subito a vedere, no? Cos'è la faccenda. Era un palazzo che a Prassotano era sotto la direzione della Terragna, no? Era un palazzo vecchio, alto, e il monte arrivava così, no? E di qui erano al terzo o quarto piano, arrivavo quasi al piano del monte, no? Allora, mi ha detto, bisogna andare giù, cercare di fare qualcosa, perché qui non possiamo più uscire, beh lì sono vicini, no? Allora, abbiamo preso quelle quattro armi, che io avevo un 91 che era più alto di me, beh lì, le armi erano quelle lì, no? La squadra era di dieci uomini e il comandante undici, no? E loro due, pensa, undici e noi tredici eravamo. Non so se mi ha portato fortuna o sfortuna. Siamo andati giù, beh lì erano dalla finestra, noi le abbiamo dato l'alto, no? Tanto per cercare di fare qualcosa, abbiamo sparato qualche colpa, no? In direzione, beh lì loro hanno preso la maschina, di gaverla messo dalla finestra, e caro mio si salve chi può, eh? Da lì si è messo a sparare, noi avevamo fatto qualche raffica, qualche schiopettata, no? Per... E dopo... E la faccenda è andata tutto bene, no? Noi ci siamo ritirati al pianlazzo, e abbiamo parlato un po' di sta faccenda, no? Vabbè, all'indomani mattina, all'indomani, e sti repubblichini, più furbi che noi, hanno molato tutto e si sono... sono andate a Ferragna, si sono... li sono andati nel dopolavoro della Ferragna. Capisci? Che se non andavamo lì, noi non potevamo più uscire. E il giorno del rassalamento, no? Verso la metà di settembre, un mattino, c'è qualcosa di in giro, ci deve essere un rassalamento o qualcosa, te e... e l'altro le... dovete andare di pattuglia, fino a... c'era un posto che dicevano la funga, fino alla fuga, no? Allora, noi, un gruppo, tutti, abbiamo dati giù, abbiamo tagliato da questa parte che ci dicevano la moglie dei rossi. E queste due ragazze, c'era una strada da dove sono arrivate, no? E io vedo, mi giro così, vedo che una di quelle ragazze lì, tornano indietro, ho detto, ma cosa? Come mai che tornano indietro? Avevo perso un zoccolo, avevo dei zoccolini, no? Quello che usavo una volta, no? Ho preso il zoccolo, guarda che dopo se n'è andata via, no? E noi abbiamo attraversato, ci siamo preparati, ci siamo appoggiati là, alla Mederosi, no? E dopo, forse un'ora, vediamo i repubblichini sul monte lì, che pian piano venivano giù. Circa un centinaio, eh? E noi si siamo salvati, guarda, un po' delle volte, dici, si siamo salvati proprio per miracolo, eh? Perché dalla strada che venivano, noi eravamo seduti tutti qua, sarà stato sette, otto metri, eh? Quello lì che era di guardia, che è ancora vivo, eh? Quello ragazzo lì, abita a Carcare, da lì ha sentito, proprio ha sentito camminare, repubblicare, e dopo si siamo fermati qualche centinaio di metri, si siamo piazzati dalla parte di là, no? E lì loro, l'abbiamo visto sul monte che marciavano distante, dieci metri da uno all'altro, no? E lì c'era una casa, che era mezza derocata, no? C'erano ancora due o tre pali. Ci hanno dato fuoco! Ci hanno dato fuoco quella casa lì, e noi dopo, quando sono andati via, abbiamo, siamo partiti e abbiamo andato a spegnere il fuoco, no? E' un miracolo, perché se fanno ancora 4 o 5 metri, loro, senz'altro, i primi erano preparati, no? Col mitra o che cosa avevano, e noi eravamo lì, che discorrevamo. Allora, noi dopo, verso sera, cosa facciamo qua? Perché noi c'eravamo un mezzo, eh? Eravamo quasi circondati. Ha detto, ma, passiamo dal monte, invece di prendere la strada, no? Che era pericoloso, passiamo al monte, andiamo al pianlazzo a vedere, se c'è qualcuno, a vedere cosa fanno. Vabbè, eravamo una bella squadretta. Andiamo su verso il pianlazzo, arriviamo circa 50 metri nel bosco, eh? Se prendevamo la strada, sentiamo un colpo, ma proprio, una bomba, no? Hanno fatto saltare quel casotto che arrivamo a noi. Allora abbiamo sentito quel colpo lì, e qui hanno fatto saltare, sentato, pian pianino, siamo ritornati indietro. Se non facevano quel rumore lì, 99-600, ci arrivavamo proprio di nuovo lì, la faccenda. Allora siamo ritornati indietro, dopo è venuto la sera, loro si sono ritirati, e noi abbiamo dormito alla bella meglio, no? All'indomani sera, comandante, si spostiamo, qua bisogna spostarsi, perché ormai hanno capito di che forza siamo, perché non l'abbiamo affrontato, no? Perché noi eravamo dei fucili e poca munizione. Allora si siamo spostati nella valle di Cortemiglia. Allora ci siamo radunati tutti, eravamo già circa 100-150, no? Tutta la brigata, no? E siamo arrivati sopra, qua, sopra a Rocchetta, e il mio comandante Djibout mi fa «Te leoncino che sei pratico della strada, passa davanti, guida, no?» Guida tutto, allora io, quando mi dicevo qualcosa, io lo facevo, e sono orgoglioso di aver fatto quello che ho fatto, perché mi dicevano c'è da andare qua, c'è da andare là, io non mi sono mai rifiutato. Vabbè, passo davanti, andiamo giù, passiamo qui, arriviamo al Bormida. Allora, volevamo passare il Bormida, ma lì c'era già l'acqua, alla metà settembre, già un pochettino di Alpa, no? Allora cosa abbiamo detto? Qui c'è un ponte, che ci dicono il Ponte Romano, no? Però avevamo un po' fico, perché al Ponte Romano, se per disgrazia c'è una patuglia o cosa, allora abbiamo andato, si ci siamo fermati lì, abbiamo andato una patuglia, pian piano a vedere il Ponte Romano, il Ponte Romano era libero, allora siamo passati il Ponte Romano e siamo, io l'ho portati nella Valle Uzzone, l'ho portato fino a là, siamo rimasti una settimana lì, e i comandanti sono andati nella Valle a cercare il posto, e dopo una settimana la nostra brigata un distaccamento qua all'altro, noi ci siamo rifugiati lì in un mulino.